Ecco inizia qui il triangolare tra la squadra dell'Albano Prima Era e la rappresentativa di calcio a 5 femminile. Vedete come giocano bene i ragazzi che vanno subito in rete, i ragazzi dell'Albano Prima Era. Niente male. Ancora la resta dell'Albano Prima Era e ha un altro gol, 2 a 0. Grandissimo. Vediamo, cerca di reagire alla rappresentativa di calcio femminile del Val Montone. E accorcia le distanze con un grandissimo diagonale. Ancora la propria era. Che subito ristabilisce le distanze. Ci provano ancora. E vanno ancora a segno. Grandi. Grazie. Grazie. Grazie.